Non so se tutti lo sapete, ma esistono delle criptovalute, per essere più precisi dei token di criptovaluta, che hanno lo stesso identico valore delle valute tradizionali, le valute fiat, come ad esempio il dollaro americano. Questi token si chiamano stablecoin e la più famosa di tutte è Tether, il cui simbolo è USDT, dove USD sta per dollaro americano e T sta per Tether, infatti si chiamano Tether dollar. Ebbene questi token sono convertibili in qualsiasi momento in dollari americani, quindi se avete degli USDT li date indietro a Tether e in cambio loro vi danno i dollari americani. Questo scambio può essere effettuato immediatamente, istantaneamente sull'exchange Bitfinex. Ah, ovviamente vi danno sempre un dollaro per ogni token USDT, perché il valore è identico, cioè un USDT vale un dollaro americano, cioè un USD e viceversa. Quindi sebbene stiamo parlando di due monete che hanno forma diversa, avendo lo stesso valore le possiamo confrontare. Come diciamo in questo articolo del Cryptonomist, di cui vi metto il link in descrizione, Tether ha superato sia Bitcoin sia PayPal per volumi trasferiti. Cosa significa? Significa che facendo la media a sette giorni del valore totale complessivo che viene trasferito quotidianamente in USDT, si scopre che questo valore quotidiano giornaliero è arrivato a 3,55 miliardi di dollari. Cioè ultimamente in media ogni giorno vengono scambiati 3 miliardi e mezzo di token USDT. Ognuno di questi vale un dollaro, quindi il loro valore complessivo è 3 miliardi e mezzo di dollari. Facendo il confronto con Bitcoin scopriamo che ogni giorno in media ultimamente vengono trasferiti 2,94 miliardi di dollari in Bitcoin. Quindi il volume trasferito quotidianamente in USDT, in Tether, 3,55 miliardi, è maggiore rispetto a quello di Bitcoin. Ma la cosa interessante è che, su questo articolo lo trovate, c'è un report ufficiale di PayPal relativo al secondo trimestre del 2020, cioè da aprile a giugno del 2020, in cui dicono che complessivamente hanno trasferito, sono stati trasferiti su PayPal, 222 miliardi di dollari. Ebbene, facendo la media giornaliera di quel periodo, si scopre che questa media è inferiore ai 3 miliardi. Quindi il volume medio giornaliero che negli ultimi tempi viene scambiato in USDT, 3,55 miliardi, è superiore a quello di PayPal, 2,94 miliardi. Ora, che il volume degli USDT che vengono trasferiti in giorno sia superiore a quello di Bitcoin potrebbe anche avere un senso. Perché? Perché Bitcoin non è una buona moneta transazionale, un buon mezzo di pagamento, il suo valore non è stabile, eccetera, eccetera. È meglio come investimento a rischio, ma pur sempre investimento. Invece USDT non serve per investire perché vale tanto quanto il dollaro, soffre di inflazione, perde di valore nel corso del tempo, però ha un valore stabile, quindi è molto più utilizzabile quotidianamente. Un po' come ad esempio anche per l'appunto PayPal. Però ci sono alcune differenze. Infatti dovete sapere che il maggior utilizzo di USDT, cioè di Tether Dollar, del cripto-dollaro è sugli exchange che consentono di fare compravendita di cripto-valute. Mentre invece l'utilizzo di PayPal sugli exchange è minimo, quasi irrilevante. PayPal si usa soprattutto per fare acquisti online. Moltissimi acquisti online passano attraverso PayPal. Mentre invece USDT, cioè Tether Dollar, si usa pochissimo per fare acquisti online. Ma c'è un'altra differenza importante che secondo me è quella veramente interessante. Dovete sapere che USDT è un token che si scambia sulla rete Ethereum, non solo, anche su altre reti, su Tron, su OMG, eccetera, ma principalmente su Ethereum. Che cosa significa? Significa che può essere scambiato in maniera anonima, P2P, cioè tra un wallet anonimo ed un altro anonimo. E soprattutto non ha nessuna limitazione. Potenzialmente è possibile inviare USDT da qualsiasi wallet a qualsiasi wallet. Questo non vale anche per PayPal. Lo sappiamo benissimo, PayPal ha molte limitazioni ed alcune di queste, le più importanti oserei dire, sono quelle imposte dagli stati. Vi faccio un esempio. Voi non potete usare PayPal per inviare denaro in Iran perché la legge americana lo vieta. Diciamo più che la legge, le disposizioni del governo americano lo vietano. Invece con USDT non solo non ci sono queste limitazioni, ma non ci possono essere perché la rete di Ethereum è decentralizzata, non è controllata da nessuno, nessun governo al mondo può imporre dei blocchi, dei limiti, delle ostruzioni alle transazioni su Ethereum. Quindi USDT di fatto si può usare in totale libertà. Per carità, il maggior utilizzo attuale di USDT è sugli exchange crypto. Exchange in cui conviene fare compravendita con criptovalute. Quindi piuttosto che fare compravendita ad esempio di Bitcoin o di Ethereum in Euro o in dollari, è più conveniente nel senso che è più facile fare queste compravendite in USDT, proprio anche perché poi gli USDT sono più facili da utilizzare, da gestire, da inviare e ricevere. Chiunque di voi avesse già provato a fare delle transazioni in USDT sa benissimo che sono molto facili e soprattutto anche veloci e soprattutto non in alcun modo limitabili, offrono veramente una enorme libertà. Certo, in questo momento sono un po' care perché la rete Ethereum è un po' congestionata, ma questo è un altro discorso, magari poi lo affronteremo in un altro video. Tra l'altro, pensate che solamente poco più di un mese fa, le transazioni medie giornaliere in USDT erano inferiori a 2 miliardi, quindi in un mese è passato da 2 miliardi di media giornaliera a 3 miliardi e mezzo e pensate che non avevano mai superato il miliardo di transazioni giornaliere medie fino a marzo di quest'anno, tranne un unico piccolo picco a fine del 2019 ma che possiamo ignorare. Quindi praticamente da marzo a oggi è passato da un volume giornaliero medio di un miliardo a un volume giornaliero medio di 3 miliardi e mezzo. A mio parere non si fermerà qua. Io credo che i volumi di scambio in USDT aumenteranno sempre di più. Vi faccio vedere una cosa su CoinMarketCap. Tether è la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato. Con 10 miliardi di dollari, cioè in circolazione al giorno d'oggi ci sono 10 miliardi di USDT che corrispondono a 10 miliardi di dollari. E se andiamo a prendere il grafico, in particolare il grafico proprio della capitalizzazione di mercato, togliamo il prezzo in BTC, mettiamo il market cap e togliamo anche il prezzo in dollari, scopriamo che fino al 2017 di USDT in circolazione, ce ne erano pochissimi, a metà del 2017 erano 100-200 milioni, poi erano saliti un po' a gennaio 2018, quando erano già diventati 2 miliardi, poi addirittura a un certo punto erano scesi a fine 2018, avevano ripreso a crescere diventando 4 miliardi a metà del 2019 e poi a partire dal 2020, vedete questo è gennaio 2020, c'è stata un'esplosione del numero di USDT in circolazione, passati prima a 4 miliardi e mezzo, poi a 6 miliardi e 3, poi a 8 miliardi e 8, 9 miliardi e 100 e 10 miliardi. Quello che vi ho appena fatto vedere è il totale degli USDT emessi, quindi non quelli che vengono scambiati ogni giorno, perché ovviamente la maggior parte di questi USDT non viene scambiata ogni giorno, il volume di scambio giornaliero invece è un po' inferiori e 3,5 miliardi, però a mio parere aumenterà, quindi non solo Tether, USDT ha superato Paypal, ma secondo me nel corso dei prossimi mesi o anni supererà anche altre piattaforme probabilmente ancora più usate di Paypal al mondo, non oso dirlo, ma secondo me è persin possibile che prima o poi superi Visa o Mastercard. Il motivo è presto detto, usare gli USDT è facile, veloce e soprattutto privo di qualsiasi limitazione. Attenzione però perché al giorno d'oggi è ancora un po' caro. Certo, Paypal è caro, non so quanti di voi lo sanno, ma quando si ricevono dei soldi su Paypal e lo si fa perché si è venduto qualche cosa, ci sono delle commissioni piuttosto pesanti, le commissioni su USDT sono decisamente inferiori e quindi comunque con Paypal da questo punto di vista è competitivo. Ma quando verrà rilasciata la nuova versione di Ethereum che diminuirà sostanzialmente probabilmente le commissioni, USDT diventerà davvero molto, molto competitivo. Ve lo dico in altri termini, il prossimo anno probabilmente USDT sarà non solamente più libero, ma anche più economico rispetto all'utilizzo dei classici processori di pagamento in dollari online come le carte di credito, le carte di debito o Paypal. Forse non sarà ugualmente veloce, però ricordatevi che una transazione in USDT, se le commissioni sono adeguate, occorre perché venga eseguita circa 15 secondi. Certo, un po' di più di quello che occorre con Paypal o carta di credito, però insomma 15 secondi sono un tempo che va molto bene per la stragrande maggioranza delle transazioni. Certo, in futuro, quando la banca centrale americana, la Federal Reserve, emetterà un dollaro digitale, che non è un criptodollaro perché non sarà basato su una blockchain decentralizzata, sarà un dollaro digitale basato su un registro elettronico, forse distribuito, una cosa leggermente diversa, allora Tether avrà un concorrente. Però ricordatevi che Tether può essere usato in maniera anonima, le valute digitali delle banche centrali no. Inoltre, sulle valute digitali delle banche centrali ci sono le stesse restrizioni che ci sono sul denaro fiat, perché sono la stessa identica cosa, cioè il dollaro digitale è la stessa identica cosa del dollaro, solo che viene trasferito con un'altra tecnologia. Invece USDT è, dal punto di vista tecnologico, un'altra cosa perché è un token che rappresenta i dollari e non può essere limitato, né ora né mai. Tra l'altro dovete anche sapere che uno degli stati al mondo in cui si usa di più USDT è la Cina. Perché la Cina? Perché in Cina usare i dollari americani non è propriamente facile, perché in Cina ci sono ancora problemi ad utilizzare gli exchange crypto, perché il governo non vuole che i cinesi vendano valuta fiat per acquistare criptovalute, e quindi piuttosto che usare valuta fiat e nella impossibilità di usare i dollari, i cinesi usano Tether Dollar, cioè criptodollari USDT. Ora, spero di avervi spiegato tutto in maniera abbastanza chiara, in realtà ho fatto una sintesi perché lo scenario è molto più complesso, io ho selezionato solo i punti principali e quelli più chiari da comprendere, ma nel caso ricordatevi che potete sempre scrivermi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Se poi volete di questi argomenti ne discutiamo sul gruppo Facebook che ho creato appositamente poco tempo fa chiamato Bitcoin Italia Aperto e Senza Scam, di cui vi metto ovviamente il link in descrizione. Un saluto, ciao!